Ma dov'è? C'è stamattina mi doveva raccontare il fatto di mia zia. Ma che è sta busta? Chi sta combinando? Ah mo, me lo racconti che è successo stamattina nella chiamata con mia zia? Ma mi hai messi i cuscini? Che mi hai lasciato così? Che stamattina non mi hai dato buongiorno? Mi hai detto tua zia? Ti è rimotata? Eh, ma che è successo? D'ora, non metto questi cuscini qua dentro. Ma che devi fare? C'è la tua zia? E stamattina ha telefonato, ah, ma tu i cuscini non li vuoi, me li devi tornare. Ma quali? Sempre quelli del divano? Sì, sì, te li devo tornare, ci si perché? Ci si veramente qui in quel divano sconocchiato dai ai, per i cuscini. No, io sto comodo, ci si sta appoggiando un culo, comodo. Eh, mia zia, gli hai detto così, da appoggiare un culo. Perché non tutto è il divano che vuole i cuscini. Lei vuole i cuscini per venderli altri alla vicina di casa, sicuramente. Ma non gli vuoi dire a mia zia un divano da appoggiare il sedere? Non glielo vuoi dire? E niente, ora, ti ho preso questi cuscini, sono anche impolverati, ma qui un divano... Ma lei vuole i donati suoi, no? No, signore! Non, signore, me li ha dati. E allora io ci porto questi. Tanto ora finisce l'estate che me lo fa, ma pure il lavoro. Tanto il divano è la prima guerra mondiale. Veramente è un divano moderno quello di mia zia. Ma veramente i pari di un proprio torri gattieri. E ancora! Vedi che mia zia poi guarda il video che ci segue. E' meglio, ci mette questi cuscini. Se vuole lavare, lava, sono un po' impolverati. Ma veramente il divano quando si mette un divano è ingrasciatello, è sudata. Basta, chiude il video per chi pensia, proprio, non ti parlerà più a vita. Ti saluto e se fa discussione, ci chiamo a Tony Budi che è d'accordo con me. Ah, quanto io sono d'accordo con te? Budi è venire d'accordo con me. Ciao, ragazzi. No, vabbè, voglio morire.